Ieri sera entrando in casa ho aperto il cancelletto e mi sono trovata davanti un signore di grande statura davanti all'uscio della nostra zona a Trezzi in fase di refurtiva. Il signore è appunto munito di berretto, giubbotto, avviso scoperto, era pronto per farsi il suo bottino e io in quel momento ho reagito, ho chiesto cosa stesse facendo, lui si è girato e in quel momento ha cominciato a scappare, ha saltato il cancello ed è uscito via in strada. Si è trovata tu per tu con il ladro Duska Zago, titolare accanto ai fratelli della storica trattoria Le Querce di Merlengo in via Talponera. È un sabato sera di lavoro, Duska lascia per un momento il locale per rientrare nell'abitazione adiacente, questione di pochi passi. Io questa persona sì l'ho vista in faccia, era avviso scoperto in quel momento, poi quando si è reso conto che lo stava anche guardando ha tirato su una sorta di sciarpa di passamontagna o non so cosa, si è girato ed è scappato via. Ecco, a quel punto cosa ha fatto? L'ho rincorso, io l'ho rincorso, gli ho urlato cosa stai facendo e lui non ha parlato quindi non so dire se era italiano o di che nazionalità. Una volta dileguatosi la donna lancia l'allarme, arrivano anche i fratelli e vengono chiamati i carabinieri. Emerge subito un quadro chiaro, nel garage il delinquente stava prelevando degli attrezzi utili allo scasso, cacciaviti, chiave inglese, smerigliatrice, non si esclude possa avere agito accanto dei complici che ci fosse un piantone. Mentre i militari hanno acquisito le immagini della videosorveglianza, anche privata, in famiglia Zago si tira un sospiro di sollievo. La stessa Duska riflette sulla sua reazione. In quel momento non so cosa mi è partito dentro e ho affrontato questa persona, poi ovviamente col senno di poi mi sto dicendo capita, mi poteva capitare qualsiasi cosa perché effettivamente era un signore grande, di struttura abbastanza importante, agile perché è stato dato il cancello ai due secondi, quindi ora dico mai più farò questa cosa, mi è andata bene. Un giorno dopo come ci si sente? Rabbia, ci sente con rabbia perché noi siamo una famiglia dove ho mia mamma, lo dico che è anziana, però insomma è la sua età, abbiamo due bimbi ed è casa privata quindi andiamo avanti e indietro di continua e ieri sera i miei bimbi non c'erano quindi mi immagino se fossero stati loro, se fosse stata la piccola di otto anni che arrivava e si trovava questo uomone davanti, non lo so e non voglio in questo momento pensarci.